Le videoguide di Intesa San Paolo Con questa videoguida scopriamo alcune caratteristiche del portale Condomini Online, il portale dedicato agli amministratori di condominio. Tramite il portale Condomini Online è possibile gestire le anagrafiche dei condomini e dei condomini e pubblicare nell'apposita bacheca i documenti assembleari e l'informativa di conto, come previsto dalla riforma sui condomini, consultabili dagli utenti aventi diritto, abilitati direttamente dall'amministratore. È inoltre possibile emettere direttamente bollettini di incasso MAV in completa autonomia e senza emissioni di avvisi cartacei. L'amministratore ha infatti l'opportunità di generare sia MAV virtuali per gli incassi massivi, caricando file prodotti nei formati CBI o CSV oppure Excel, sia MAV online, per incassi estemporanei creati tramite l'applicazione web e immediatamente pagabili. I MAV così generati possono essere inviati via e-mail risparmiando a costi di stampa ed invio. Questo processo di totale dematerializzazione dei bollettini è eco-compatibile, rapido e consente un'immediata pagabilità al debitore. È a disposizione anche l'apposito menu Report, dove è sempre possibile controllare la situazione contabile degli stabili, verificando lo stato dei flussi inviati alla banca e creare files da archiviare secondo le proprie esigenze con l'utilizzo di diversi filtri. Guarda anche gli altri video!